Ciao 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 Non ho paracarute Io vado qua Oh scusa Un cozzio Puoi scendere? Ecco Sono sceso Ci stanno sparando il bosco Pfff Cazzo di uzz Io sono col carro ma non si vuole muovere Il carro sta sparando a me, il tuo carro Sì, infatti continua a sparare lì C'ho pure che se scendere mi dispiace Scendo Coddio Ma è preso la mia mina Coddio Non c'è il piede all'inizio Sto facendo la statueta Ma mi ha sparato il Dominican col carro Ancora Ma c'è manco un coglione Non trovo il tuo cadavere No, ma non ho l'altro Il mio pacchetto di merda La storpa si fredda Oh c'è, a destra c'è il nero rossi Nel bosco Sì Come si fa c'è? Un colpo su il tech qua Il colpo di MS-16 è anche in testa Ma seccata Cazzo Cazzo C'è il tech sta andando verso la casa Cazzo 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 ma che palle dai dio cane siamo lì in sé a correre quad magari spara un pericolo sto qua col carro cazzo cosa mi schiaccia l'amore ho chiarato dentro la granata ho preso con un carlo in una sola strada un carlo fermo ma non ci credo cazzo l'ho lasciato con uno per cento nooo chi è che mi ha fatto tutto il quad vavo Mish vai cazzo ce lì assalto le 3-2 casse in giro le scamate in pieno Mish mi fido eh non salta giù la faccia ripetere due volte mi ho visto mi è stato fatto giù cittadino ma l'ho ucciso ma l'ho ucciso ah merda ma cazzo ma non ti apri che p***o che p***o mi sono in mezzo alla strada sto attraversando ho anche il torrettone c***o c***o nello mi ha seccato Piedesca Steve no ok vengasco io dai vai mi ha scordato mi ha scordato ciò fa salta in aria tutto nello so ma c'è il carro davanti del cazzo e che andò in grado Mi sono colpito con l'annasso il 27% di vita Non si ne scatta Non so, c'è proprio il carro qua davanti C'è anche l'UAB No, è rimasto morto, ti sei suicidato No, ma non è vero, in atto ti sei suicidato Non so neanche da cosa 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 Non so neanche da quello, ti Che cazzo fa Si, lo so, non mi faceva coltellare Il chosen hamburger Non so, mi sto uscire Cazzo, mi ha ammazzato, porca puttana Ma io ho un po' le... No, tre che stanno girando dove ero un primo amico Non so neanche niente Non so ne sono tre che stanno girando di lì Ma zio cale se non riesco a prendere la mira ogni volta mi faccio ammazzare come una merda La parte C4, ma porca bella Mi sto arrivando dietro amici Atосто Non muore Non ammazzaremente tirata giù Non ammazzaré Diero si deve essere dietro mi era proprio dietro dimensi chi si devi dare mi faccio io non ho chato mi no a 6 da me sono le prima casa io prendo in america ma non è vero poi morire fai finta gioco non si è da destra 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 come c'è 100% di vita, ho uscito pure la X, due volte, 100% di vita. Mish, salta giù Mish, salta giù! Io questa devo filmarla. Perché io sto giocando di merda, proprio? C'è una che sta mettendo le mine dove ci compare il caro armato. Eh, ma è che l'ho pulpito ma è scappato via. Ecco, è là dove c'è il caro in fiamma da qualche parte. Ho perso il T90. Sto nello T90 morto le mine. Che non esplodono. Quindi, si esplodono se li spari, però stai lontano. Mi fa ancora uno tiro a granata, faccio prima. Guarda, stai dietro? Sì, sono sul T90, se vuole lo faccio scoppiare io. No, ho fatto scoppiare. Ce n'ho un'altra più avanti. Oh, ce l'ho dietro, che palle sto gay, sempre dentro. Sempre dentro firmo da aspettare, dentro la foresta, a destra. Sta tornando sulla cassa dove c'è. Sto nello T90 morto le mine. Andiamo su le mine, Michio. Mina! Non, non. Non, non, senza dobbiamo sentire da macerare. Non. Non, 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 non. 3 c'è ma fatto la nemisi a forza di uccidermi è stato seduto su una cazzo mio coltellato vai me un'altra cazzo non ho la pace io sono erano la pace di scendere per la parte della pace scuso parado io ho preso un'altra cosa No, tu spara, spara, devi muoverti, ma spara, 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 riprenditi il tuo carro. Sperando che non mi ammazzano. Tu spara giù. Giro un po' a sinistra, a sinistra, non c'è la pistola del contro loro, ok, no. Eh, ma se te che devi filare, ti hai dato, guarda, non c'è. E qui non riesco a girare di più, non riesco a girare. Ah, io c'è sempre. Bene, se sei passato per un po' di vicino. E prendendo un po' più larga la curva, così non riesco a prendere nulla. Eh, ma non è così semplice. Immagino. E' a primaverso il diario sulla faccia una merata, scusiamo ieri. Che palle, sempre dietro una cazza di foresta, fermo, sto c***o. Meher è sceso, ma quando mi giro arrivano. Io non vedo nessuno, ne ho fornato. Ne ho passato in costruzione, mi ci sono dentro i cecchini. Io ho preso te, hai visto. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. In questa cosa ce n'è uno, vicino al carro. Oddio, mi sto falciando. Cazzo. Oddio. Minchia. Minchia. Ok, o me è che sei circondato. Sì. Ma cazzo, oh ma puttana. Spara uno ma l'altro, non riesco a fattare. E io mi domando come ha fatto a farmi hatch, che ero seduto dietro di te. Proprio. Mi ha sparato a te, ma staccato la testa. Farà il carro, scusa. Ma io stavo facendo schifissimi, ultimo momento a bedda. No, questo si può andare. Non so dove passare, però faccio sentire. No, da più non lo so, non faccio mica. Non so dentro di una casa dove c'era un carro. Adesso si balta e esplode No, no, non si balta Ho fatto la stata prima con l'autoblind o qualcosa Sì, io lo miro l'estra Ho l'albero davanti e non vedo un cazzo Merdo, lo so Superbomita Guarda il resto, perché devo dirlo Perché non ci incastriamo la scuola Non c'è nessuno Ora qua Sì Sono tutti timidi che non si fanno vedere Non c'è nessuno 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 Bene, è fatto in costruzione Lo ucciso Io riparro questo cesto, non posso Sai, non va fino alla morte Non c'è nessuno Non c'è nessuno Cazzo c'è rispulato il piano No, c'è nessuno Un problema Oh, uno sta andando a desinnescare Ho visto che ti faceva eh no, tottosali Ah, a stay Con unكان Non cazzo Eh, troppo basso Scusa! L'hai preso! Come sei inteso? Eh! Vai qua sotto! C'è uno di cui non c'erano altri che toccarono qui Credo sia il mine quella aspetta ma loro sono andata ovviamente sparando C'erano sotto! Non c'è uno di adesso, hai visto? Non c'è chi no! Alla, lì! Si deve mantenere Scusa le mine Dai rispondo fra poco intanto Comunque occhio che sta arrivando al T90 alla tua sinistra Oh cazzo Scusa finita a scoppiare qua Vigitarne anche tu due a... Grande! Ma c'è un suo altro due a sinistra Vai! Si è fatto già adesso Vai nel caso Si sparano dietro, si sparano dietro Si sono sceso perché ti stavo crepando Si sono tacc della morte, sono morto anch'io Bradley dentro nella cassa vecchia Cabannone dove c'è la vecchia cassa Mech! Fatta su con me si fa Ok! Si! 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 Merda! Si! Si! Eh cazzo Potete dirlo che prendeva geniere Si! E' qua si sparano la mettralettrice Si! Lo vedo, lo vedo! Lo vedo! Mi chiamassi che lo scomazzare sui Beccoscono le X ma non... non muoiono oddio, cosa vorresti? adesso al brato è sceso ancora al tifo al brato ma qui c'è a sparare che non si mangierà qui qua se l'ho notato non vedo bene nulla no quel genio non chiamò il tempismo perfetto che hanno sempre rossi di vacca lo insieme a domani esclare insomma il sito per il pacco x cosiocopo xd xd non mi succede che io ce l'ho solo e c'è bisogno La macchina no! Forza Siza! Ecco al massimo! Grazie! Non so, c'è l'effigio adesso non c'è parte Non c'è parte, non c'è parte, non c'è parte, non c'è parte, non c'è parte Mi c'è parte, non c'è parte, non c'è parte Stanno guardando Chi è lì sotto? Spara l'entere, sono ancora lì Sparo il brado, lì tagli, sparo i tizi Un grado è ancora lì, vado Sto andando io per me Non c'è l'ho tirato, non c'è l'ho tirato È andato Ok, non c'è proprio il RPG pronto per sparare No Direi un corso su A, quindi se qualcuno sta andando lì E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa No, cazzo Ma io non li posso fare niente Non li ammazzo mai Così Così, ma vengono qua 300 X quando lo sparo io Ma non muore mai nessuno Guarda ancora la X, muori, devi morire Ma vengono qua Non ci può fare niente Ma vengono qua Ma ci vuole No, ho ucciso il nostro A salito sul Bradley non so se vedete me ce ne so due che stanno ce ne sono gli due davanti, occhio ma così io se continuo a smitragliare non serve a niente ho preso qualcuno si ho visto che correva la, ah che c'era uno lì cazzo mi ho detto che sparo ah che c'è uno, niente, non si becco, non c'è la X ho preso io poi ho tempo, non miro e mi zooma indietro da solo cosa sia l'ho tempo, bella tempo geniere, se serve cazzo, cecchino, cecchino cazzo così cazzo così cecchino cazzo 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 bravo spaventi ti senti passi dietro al culo oh ecco però questo no eh quello non sento eh no lo avete fatto saltare e vanno a scoprirlo e ancora dentro lì comunque devo andare per la porta arrivo 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 ma aspetta che ti voglio guarda la salta amici guarda la salta amici guarda la salta amici guarda la salta amici Dichaglio perchè forse è qualcosa che basta altrimenti se ne va via troppo oramondosi cos'è? salire sui tubi è pericoloso guardare, di nuovo perchè non ho, non dovrebbe essere pericoloso io ho cercato di arrabbiarmi su tipo allora io ho fatto il giro, prima non c'era nessuno in un momento non vedo nessuno infatti questo è già un ragazzo a partire c'è un bianchino di una scusa mi sto andando sui tubi alla mia sinistra ho visto partire dei colpi si, si, infatti sono lì stana lì dov'è che sono? uno va verso A c'è lì davanti, occhio ripreso, si po' si no c'è l'ultimo c'è l'ultimo questo è non so porto st c c c c c c no c c c Io non ho messo neanche più il silenzio Eh ma neanch'io, io già da prima C'è l'accidentino? Eh mi si può andare subito adesso Eh l'ho piazzata adesso Ma ce n'era uno prima Il ruolo non c'è neanche su Guardate le munizioni migliorate Su arma secondaria Sì Ah E' la ora Non vuoi Facculo Suvi è arrivato uno da A e uno dai tu E sta arrivando dentro C'è tre X che mi salta a cuore Il tipo di tre volte che hai scelto la X E' lo scelto Ah credo io che non mi tra l'io E' la sua Ma la cosa che non è qua in realtà E' la sua 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 la sua proposta no, è dentro la finestrella no, ok vedi che si è fatto schifo non lo ricordo di fuoco non ci prenderai di riuscire in casa che stai scompare in mezzo ho fatto un massacro misterio 2311 però ancora porta di valdez porta